La scuola dell'ONU attaccata mercoledì nella striscia di Gaza è stata colpita con 5 cannonate dall'artiglieria israeliana. È la ricostruzione dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa dei rifugiati palestinesi. 23 i morti e la condanna è unanime, arriva da Washington, Parigi e dalla Croce Rossa Internazionale, come spiega il capo delle operazioni in Medio Oriente. Sono danneggiati nel corpo e nella mente e la questione qui non è chi stia rispettando o chi stia violando le regole di guerra. Siamo davanti a un'enorme emergenza umanitaria, chiediamo che la distruzione e le uccisioni finiscano subito. Drammatico il bilancio delle perdite, secondo il direttore delle operazioni umanitarie dell'ONU. È una paura mortale ed è giustificata perché il numero delle vittime continua ad aumentare. Vi abbiamo già comunicato nei giorni scorsi che viene ucciso un bambino allora. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, che si trova in Costa Rica, ha condannato fermamente l'attacco definendolo vergognoso e ribadito che tutte le prove indicano che a bombardare è stata l'artiglieria israeliana decine costaricani scesi in piazza per mostrare a Ban Ki-moon il loro sostegno alla Palestina. America Latina!